Ciao ragazzi, bentornati a casa mia. Primo round di Champions League semifinale andato ad appannaggio dell'Inter con un risultato anche abbastanza secco, anche se non è del tutto veritiero per quello che si è visto diciamo nei due tempi, nel senso che nel primo tempo l'Inter poteva stare avanti anche di tre, se non di quattro, perché comunque hanno preso un palo. Il rigore per fortuna non c'era, ma lì comunque abbiamo rischiato perché Lautaro è andato via. Primo tempo del Milan è da quattro, nel secondo tempo c'è stata quantomeno una reazione, una reazione soprattutto di nervi. Di tutti, tranne che di Teo. L'unica cosa è che ci sono dei giocatori che mancano, non parlo degli assenti ma parlo di persone presenti ma che con la testa non danno la prestazione che speri. Non sono poco scesi in campo. E uno di questi è Teo. Voi grandi difensori di Calabria sappiate che questa sera sul primo gol si fa praticamente ridicolizzare da Dzeko e sul secondo gol è completamente fuori posizione rispetto a Di Marco. Di Marco inizia l'azione, poi Tonali si perde completamente Mkhitaryan e nei primi 11 minuti il nostro terzino destro ne ha fatte due e due sono valsi due gol. Non è l'unico colpevole ma è uno dei colpevoli e quindi poi continuate a difendere Calabria, mi raccomando, perché ha fatto due grandi prestazioni contro un ragazzino georgiano. Ma poi quando arrivano i derby Calabria torna nel suo mare di mediocrità. Comunque sicuramente non abbiamo perso per colpa di Calabria ma il resto della mia idea che è l'anello debole della difesa. Poi qualcuno mi spiegherà perché sul calcio d'angolo Calabria alto così marca Dzeko. Io non riesco a capirla questa cosa però vi dico la verità ormai non mi interessa perché la frittata è fatta. E quindi ora ci ritroviamo con questo bel 2-0 sul groppone che può essere ripreso nella partita di ritorno ma i ragazzi devono avere il fuoco nelle vene, negli occhi. E io non voglio più vedere l'approccio compassato che si è ripetuto anche questa sera. È un Milan che ha sempre un approccio compassato. Dall'altra parte c'è una squadra aggressiva che crede in ogni mezza palla. Ha creduto in due mezze palle e ha fatto due gol. È così ragazzi. Questo fa la differenza soprattutto in queste partite eliminazioni diretta. Farebbe anche la differenza se il nostro allenatore non facesse dei cambi scellerati. Tipo togliendo l'MVP. Torneremo sul discorso della partita di ritorno. Siccome Steven ha detto questa cosa approfondisco il fatto che non ci voleva uno scienziato a capire che Ebrahim avrebbe patito fisicamente il gioco. Lo chiamo sporco ma più che altro maschio fisico dei centrocampisti dell'Inter. Infatti Ebrahim ha fatto fatica. Io mi sarei rischiato un giocatore un po' più fisico di Ebrahim Diaz. E l'avrei messo a partita in corso come è successo in altri derby. Questa cosa l'ho già detta anche domenica o sabato. Io credo in questa cosa. Avrei giocato con un giocatore più fisico come De Ketelare. O paradossalmente anche in Orighi considerando come è entrato. Perché Orighi ha fatto una buona entrata in campo e poi dopo però il Milan dopo un po' si è un po' perso. Dopo il palo non ha creato più nulla. Quello che io non riesco a capire è Hai la sfortuna di perdere Ben Nasser dopo 10 minuti? 15 minuti. Io penso che la cosa più intelligente sia non dare tutto, mandare tutto in vacca E sbilanciarsi di già perché devi recuperare due gol. Ricordandoti che le partite sono due, non una. Quindi non ho assolutamente capito il cambio di perdere un centrocampista e mettere Messias. Messias che questa sera è stato assolutamente il peggiore in campo, secondo me. Non ha avuto nessuna utilità, non ha mai saltato l'uomo, non ha mai creato una situazione di pericolo. E quando Tonali l'ha messo in porta ha tirato come tirerebbe uno che gioca in seconda categoria. Se questo qui è l'arma segreta di Pioli, siamo a posto ragazzi. Cioè io non ho più fiducia in questo allenatore. Questa sera mi ha dato ancora ragione la mia sfiducia nei suoi confronti. Perché nei momenti decisivi hai smantellato il centrocampo a tre. Perché immediatamente io avrei messo Pobega tutta la vita, anche perché è fisicato. E dovevamo mantenere il centrocampo a tre. E poi nel secondo tempo, dopo neanche un quarto d'ora, ha tolto l'uomo in più del Milan. Quello che io ho detto che è l'uomo irrinunciabile di questo periodo. Quello che stava creando effettivamente gli unici pericoli. L'unico che ci stava mettendo fuoco vero, cioè Alexis Salmaker, l'ha tolto. E' un cambio che non capisco davvero, non lo capisco. Perché io avrei tolto Diaz, avrei tolto Messias. Avrei tolto Messias perché tanto era stato inutile, completamente inutile. Ha tolto Salmaker, che era il migliore in campo. Il migliore in campo. Io non trovo una logica in un allenatore che sotto di due toglie il suo miglior uomo in campo. Non trovo una logica. Come non trovo una logica spendermi due cambi in difesa. Chi era uscito è andato direttamente negli spogliatoi, quindi non aveva problemi. Si è incazzato. Alla fine Calabria-Calulu, quel cambio o me lo fai molto prima, fatto alla fine, che senso ha? Nessuno. Nessuno. Cioè, sei sotto di due e devi farne almeno uno per rimettere in bilico la qualificazione. Fai dei cambi offensivi ma con criterio, con giudizio. Non mi puoi mettere dentro solo centrocampisti e difensori. Io ti giuro queste cose non le capisco. Non riesco a capirle. Beati voi che sostenete questo allenatore e che credete che sia molto bravo e che non sbaglia niente. Beati voi. Perché io, anche questa sera, come al solito, ero andato ad affrontare questo derby con la coscienza che lui non avrebbe imparato niente dagli errori degli altri derby. Tant'è che prendiamo un gol su calcio d'angolo e un gol da azione che parte dalla fascia. Ancora una volta. È incredibile. È incredibile. Perché i punti forti dell'Inter li conoscono tutti. Ma lui, ogni volta che rincontra l'Inter, li mette sempre nelle condizioni di farci male. Anche stasera i gol nel derby ce li siamo fatti da soli. Perché non si può prendere gol su calcio d'angolo all'ottavo minuto e dopo due minuti non si può prendere un cazzo di contropiede dalla fascia verso la parte centrale. Non è possibile. Non è possibile. Quindi, evidentemente, ancora una volta, la preparazione del derby è stata pessima. Tant'è che dopo 11 minuti la sconfessi mettendo Messias. Tu sei malato di Messias. Se non c'è Messias, esci di testa. Comunque, ragazzi, io non ho fiducia nel Mister. Ho fiducia nel gruppo. E voglio sperare che tra una settimana tirino fuori la prestazione della vita. Sputando sangue, perdendo completamente la salivazione. Fuoco negli occhi, fuoco nelle vene. Ragazzi, solo così possiamo fare un miracolo. Niente è perso, ma ora è molto più difficile di prima che ci fosse la partita d'andata. Ora è molto, molto difficile. Ma non è impossibile se giocate veramente da Milan col fuoco dentro. Forza ragazzi, mi raccomando. E ora, purtroppo, dobbiamo pensare a Spezia Milan. Buonanotte.